Questa legge elettorale bisogna farla e farla presto. Lo attendono i cittadini italiani che vogliono decidere chi deve sedere in Parlamento. Lo attendono i mercati stranieri per avere certezza che l'Italia non vuole tornare al mondo di prima. Bisogna farla e bisogna farla insieme, perché altrimenti rischiamo di sfasciare tutto e finire le elezioni anticipate con la vecchia legge elettorale.